I neri azzurri con l'intento di migliorare il posizionamento in classifica ai frentani per continuare a muovere la stessa dopo il primo punto con il capistrello Al Petrusi di Città Sant'Angelo e sfida tra Renato Curiangolana e Lanciano per l'undicesimo turno del mini torneo di eccellenza De Eugenio deve fare a meno di Buffetti e Casimiri, schiera Farias dal primo assieme a Miani, Criscolo e Casati Di Pasquale oggi squalificato si affida a Lombardi, Di Benedetto e Barrow Pronti e via di Rossoneri, collezione a due azioni simili entrambi per Lombardi che prima Cicca da ottima posizione Poi con il destro non va ad impensierire Puddu, al sedicesimo però cambia il risultato Barrow dopo una serie di rimpalli si presenta tu per tu con l'estremo locale e lo fredda con un destro ad incrociare ed è il gol dello 0-1 Al venticinquesimo Casati arriva sullo spiovente di Tirenzo ma il tiro non ha i giri giusti L'angolana cresce il numero 11 per Mucciante, palla out, poi la volta di Criscolo che con il piattone spara fuori Con le riprese di Marco Donofio il secondo tempo inizia subito forte Farias corridoio fantastico per Tirenzo che da ottima posizione può esultare e 1-1 L'angolana cresce il lanciano e deve fare i conti con la stanchezza Al quindicesimo Miani si presenta tu per tu con Rossetti e bravo l'estremo ospite a ribattere Poi è Casati dal limite, palla alta, insistono i padroni di casa che al ventiseiesimo recriminano per un tocco di mano in aria Di rigore per Novelli, però bisogna proseguire Alla mezz'ora si accende Lombardi, punizione a cui Puddu deve rispondere in corner Poi dagli sviluppi ancora il numero 11, cerca Fuschi che da spizza con il pallone Che sfiora il palo alla destra dell'estremo locale Al trentasettesimo Angolana che si porta però avanti Festa se ne va sulla sinistra, Cross che dopo alcuni rimpalli termina sui piedi di Pantoni Sponda per Criscolo che con un colpo di biliardo fa 2-1 Con il primo gol nel mini torneo Il gol taglia le gambe al lanciano che al quarantasettesimo rimane in 10 Per l'espulsione di Longo, Ruggeri spreca tu per tu con Rossetti Ma termina così, 3 punti in cassaforte per l'angolana Segnale di crescita invece per il lanciano